Prosegue la battaglia del NURSIN, ovvero il sindacato degli infermieri per vedere erogati i buoni pasto spettanti a tutti i dipendenti dell'ASPA aventi diritto dal 1 gennaio 2017. Nonostante le rassicurazioni dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale, il sindacato procederà con l'azione legale, depositando entro il 30 settembre i decreti ingiundivi relativi non solo ai buoni pasto, ma anche ad altre spettanze mai erogate, quali le indennità di dicembre del 2016 e il saldo produttività 2015 per molte unità operative. L'altro ieri abbiamo ricevuto la nota dell'ASPA assieme ai destinatari quali le altre organizzazioni sindacali, dove l'ASPA fondamentalmente rassicurava sui criteri per l'erogazione, quindi in teoria dovrebbe essere un atto di tranquillità anche nei confronti dei dipendenti. Come sindacato raccogliamo le istanze dei lavoratori che ad oggi non si sentono affatto rassicurati da questa nota e ci hanno invitato e noi condividiamo le preoccupazioni dei lavoratori a proseguire con l'azione legale. Io stamattina qua sono per un appuntamento con lo studio dell'Avvocato, dove depositeremo gli atti ingiuntivi, ci saranno circa 200, dove chiederemo non solo i buoni pasto per quale diritto acquisito attraverso il contratto integrativo, ma anche molte spettanze, tipo le indennità di dicembre 2016 e alcuni saldi, tipo il saldo 2015, per alcune unità operative che ancora non l'hanno ricevuto. È una situazione molto grave, anche perché come sindacato avevamo già pensato che il problema fosse risolto dopo la conciliazione in prefettura dello scorso giugno. A minima parte l'ASPA 8 ha imparato gli impegni presi e siccome i lavoratori vogliono conto e ragione del sindacato, il sindacato deve far valere la propria azione. Siete soli in questa battaglia oppure no? La cosa che stranizza è che fino a stamattina sono stato contattato chiaramente come referente da diversi medici che vorrebbero con noi intraprendere l'azione e noi di questo siamo ben lieti, anche perché finita questa battaglia, nei prossimi giorni preannunciamo anche soprattutto delle istanze nei confronti dell'ASPA, nei confronti del sindaco di Galtanissetta, relative a delle situazioni molto critiche, relativa a quello che è stato un oggetto di vanto per l'ASPA, quale il pronto soccorso.